È un calendario che si chiama I volti dell'Africa perché è un calendario che abbiamo deciso di dedicare alle persone che abbiamo incontrato nei nostri viaggi in Kenya, Tanzania e Zambia. I volti dell'Africa perché in realtà le sfaccettature delle persone dell'Africa sono tante e noi quest'anno in questo calendario, come poi in realtà anche nelle passate edizioni, desideriamo dare un'immagine dignitosa dell'Africa. Quindi in ogni mese ci sarà in qualche modo un'immagine, un volto diverso. L'Africa che canta, l'Africa che ride, l'Africa che cammina, che sogna, che spera. E sarà anche appunto una possibilità per tutte le persone che ci sono vicine per sostenere i progetti dell'Associazione. Perché acquistando questo calendario che potete trovare sul sito internet dell'Associazione oppure contattandoci telefonicamente allo 0721 86 5159 potrete appunto acquistarlo e sostenere i progetti che portiamo avanti in Kenya, Tanzania e Zambia. Io sono Francesca, sono tornata da una settimana dallo Zambia, ho fatto l'esperienza di volontariato lì e volevo cogliere l'occasione per dire che ci sono anche delle palline di Natale che aiutano a sostenere i progetti che noi appunto abbiamo in Kenya, Tanzania e Zambia. Abbiamo scuole, mense, centri nutrizionali e tutto ha bisogno del vostro piccolo sostegno. Grazie. Grazie.